Ciao ciao a tutti, un saluto veloce oggi, è sera, mercoledì sera, oggi ne abbiamo 3, 3 ottobre. Fa un freddo pazzesco, qui siamo a livelli di escursione termica proprio da mal di gola, tosse e raffreddore, infatti Alice ha una brutta tosse già, perché la mattina ci sono 8 gradi, a mezzogiorno ce ne sono 20 e la sera ce ne sono una decina, per cui insomma non si sa mai come vestirsi, bisogna vestirsi classicamente a cipolla che è il modo migliore per affrontare l'autunno. Sto per prepararmi per andare a letto, tutti dormono già di là, e io mi devo struccare, quindi vi faccio un salutino veloce, preparate le mie salviettine struccanti. Queste le ho prese su Tigotà e devo dire che è una marca sconosciuta, questa Ciao, e devo dire che sono buone, e mi strucco anche gli occhi con quelle, per cui dopo una prima passata con queste, poi passo invece a dischetti di cotone e la mia acqua micellare, adesso sto usando questa, la mia preferita rosa, questa rosa di Garnier, insieme a quella di Bottega Verde, quella ai frutti rossi. Niente, domani mattina abbiamo visto le previsioni, è una bellissima giornata anche domani, sarà freddo ma comunque ci attrezzeremo e ne approfittiamo per andare a fare ancora un giretto in moto, penso che siano gli ultimi ormai. Abbiamo deciso di andare a visitare un bel santuario ricavato in una roccia che si trova in una delle innumerevoli valli che ci offre la nostra bergamasca, la valle Imania, stavolta abbiamo scelto, è così, quindi dopo la Varseriana, la Val Brembana, la Val Taleggio, la Val Cavallina, eccetera, questa volta andiamo in valle Imania e ci fermeremo naturalmente a pranzo, in qualche bella trattoria tipica del posto e poi scendiamo in tempo per andare a prendere io, Lorenzo e mio marito Alice all'asilo. E niente, adesso io procederò allo struccaggio ma vi risparmierò questa visione orribile del momento struccaggio mio. e niente, volevo solo lasciarvi un saluto perché mi piace comunque l'appartamento, mi piace, ma straparlo, l'appuntamento quotidiano con voi. Un abbraccio, un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!